Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà, non avrà più fame, qui vive la tua chiesa intorno a te. A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire, giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno. È l'augurio che Papa Francesco ci rivolge al termine del messaggio per la giornata mondiale della pace che da 56 anni si celebra il primo giorno dell'anno. Tante volte, con i nostri auguri, ci limitiamo a sperare che non accada nulla dispiacevole o a desiderare qualcosa di buono o di bello per noi stessi o per gli altri. Il Papa invece va oltre, augura di spendersi, di impegnare le proprie energie, i propri talenti, perché un anno per essere buono va costruito insieme. Insieme è la parola centrale del suo messaggio. Papa Francesco ripercorre dapprima ciò che ha causato il Covid. Ci ha fatto piombare, dice, nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle. Ha provocato un malessere generale nel cuore di tante persone e famiglie, i cui effetti sono stati alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà. Ha toccato inoltre alcuni nervi scoperti dell'assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa, ha aggravato la solitudine, sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei poveri. La pandemia sembra aver sconvolto, conclude, anche le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità. E poi, nel chiedersi cosa abbiamo imparato da questa situazione, quali nuovi cammini dovremo intraprendere per osare la novità, quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere, Papa Francesco risponde che la più grande lezione che il Covid ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana. Nessuno può salvarsi da solo. La parola insieme va rimessa al centro, insieme, nella fraternità, nella solidarietà, che si costruisce la pace, si garantisce la giustizia, si superano gli eventi più dolorosi. Solo la pace che nasce dall'amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali. Il Papa si sofferma poi su quella che definisce una nuova terribile sciagura che si è abbattuta sull'umanità. La guerra però, a differenza del Covid, è guidata, dice Papa Francesco, da scelte umane colpevoli. E la guerra in Ucraina non solo sta ammietendo vittime innocenti, ma sta diffondendo incertezza, perché i suoi effetti collaterali raggiungono tutti. La guerra, ogni guerra, rappresenta una sconfitta per l'umanità intera, non solo per le parti direttamente coinvolte. E mentre per il Covid un vaccino si è trovato, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Ecco perché il Papa conclude che il virus della guerra è più difficile da sconfiggere. Perché proviene dall'interno del cuore umano, corrotto dal peccato. Cosa dunque poter fare in questa situazione? Il Papa suggerisce di lasciarci cambiare il cuore dall'emergenza che abbiamo vissuto e permettere che attraverso questo momento storico Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. E qui ritorna il noi, ritorna l'insieme. Non si può soltanto pensare ad interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune. Pensarci come fraternità universale. Papa Francesco conclude il suo messaggio elencando le sfide del nostro mondo, che ciascuno di noi è chiamato ad affrontare con responsabilità e compassione. La salute pubblica per tutti. Azioni di pace per mettere fine a conflitti e guerre che continuano a generare vittime e povertà. Adottare misure chiare ed efficaci per far fronte al cambiamento climatico. Combattere il virus, delle disuguaglianze. Garantire cibo e un lavoro dignitoso per tutti. Far germogliare anche con politiche adeguate l'accoglienza e l'integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. C'è da spendersi allora in queste situazioni e in tutte quelle nelle quali viviamo giorno per giorno. C'è da spendersi con un desiderio altruista, ispirato all'amore infinito e misericordioso di Dio, per costruire un mondo nuovo, contribuendo a edificare il regno di Dio, che è il regno di amore, di giustizia e di pace. Ecco perché dobbiamo augurarci gli uni gli altri di essere quegli artigiani di pace che giorno per giorno di questo 2023 vogliono costruire un buon anno. E abbiamo proprio bisogno della benedizione che la liturgia ci offre in questo primo giorno dell'anno. Buon 2023 da Artigiani di Pace Grazie a tutti.